welcome amici ben ritrovati ciao a tutti ciao laura o la laura come stai bene ebbene noi siamo siamo bene tutte e due insieme con un po di caldo perché da noi ma credo anche in cambogia dove andremo adesso a reazionare c'è un po di caldo un po di umidità nella nostra città perché è estate e quindi stiamo reazionando il nostro camper come voi sapete noi ragioniamo in camber e quindi stiamo sentendo un po di caldo però ci stiamo concentrando perché ci abbiamo un artista molto molto bravo che noi è la seconda volta che lo andiamo a razionare che si chiama banda e manda appunto lui con la canzone haimer blood lui della 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 cambogia fantastico cioè nel senso noi l'abbiamo avuto modo certi ricordi laura il suo reppe c'ha un po è preso proprio molto perché c'è particolare la sua voce particolare del modo come va a cantare che dire io direi quasi subito di andarlo ad ascoltare laura andiamo di un po' Grazie a tutti 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 Grazie a tutti